Sono in campo, se ci sono altre candidature si mettano in campo, io non sono qui a fare personalismo, sono perché appunto una esperienza di governo, che è un'esperienza di governo positiva per la nostra regione, non si sciupi e non venga sfregiata dalle schermaglie delle lotte interne che non servono a nulla. I calabresi non servono le lotte interne, serve la crescita, il bene comune, servono risposte ai problemi e che con fatica stiamo cercando di affrontare, naturalmente con tanto cammino ancora da fare, ma proprio per questo è necessario stare in campo con grande disponibilità. Io ho dato la mia piena disponibilità a confrontarmi se ci sono altre proposte, a valutarle se ci sono proposte ancora più importanti. Benissimo, però è importante discutere con approccio positivo e non con spirito distruttivo, perché chi si approccia con spirito negativo, distruttivo, solo contro Oliverio, senza avanzare e mettere in campo... Un'alternativa valida? Nessuna proposta non fa il bene né della Calabria né del PD e se mi permette nemmeno di se stesso.